Il Milan apriamo quella dedicata all'Inter che dal punto di vista del campo ha poco da dire perché è una squadra che ha già vinto lo scudetto da due settimane e proprio per questo motivo ha creato parecchio manumore più che altro non tanto la prestazione ma l'atteggiamento con cui l'Inter è scesa in campo al Sassuolo in maniera giustificata o meno, svagata, un po' deconcentrata ha fatto stare che il Sassuolo ha vinto e avete visto all'inizio della trasmissione vi abbiamo mostrato nella lotta per la salvezza quanto è stato importante per il Sassuolo aver ottenuto quei tre punti altrimenti probabilmente sarebbe in una situazione ancora più drammatica e di conseguenza le polemiche non si spengono soprattutto in quelle piazze che col Sassuolo si stanno giocando la permanenza in Serie A quindi Massimo prima ci diceva è legittimo che a Frosinone si chiedano sì ma che interviene a giocare contro di noi perché poi è quello il discorso no Massimo? sì sì no io dico che bisogna cercare nel limite del possibile di giocare sempre per rendere il campionato credibile perché io se sono oggi un giocatore del Cagliari ribadisco il risottorino di Francesco non ha voluto commentare non ha detto ai lavori che è tantissimo che fa l'allenatore che ha fatto allenatore sia in squadre che hanno lottato per non retrocedere che in squadre che hanno lottato per qualcosa di più importante io penso che insomma io sono sicuro mi prendo le responsabilità di quello che dico che l'Inter non ha giocato una partita vera e qui mi fermo non vado oltre perché una squadra che prende più di 60 gol in una stagione e l'altra che fa non so quanti gol in una stagione ma che non smette di segnare 42 partite che non passava una partita senza fare un gol e non fai neanche un gol mi sembra abbastanza non dico strano mi sembra impossibile punto finito Paolo discorso polemiche e soprattutto proteste da parte di chi è coinvolto nella lotta a retrocessione quello che dice Massimo è chiaro che è ineccepibile dal punto di vista della linearità e della correttezza però da sempre nel nostro calcio ci sono lasciamo perdere le cose il malaffare il calcio scommesso lasciamo perdere questo ma c'è l'abitudine nel nostro calcio nel nostro paese a differenza di altri dove sono un po' più nord europei nella concezione e abbiamo visto il Bayer Leverkusen andare a dar 5 gol all'altro francoforte eppure no poteva così da noi va quasi da sé che nelle ultime giornate ad obiettivi conquistati ci sia un po' di rilassatezza io dico che sicuramente c'è stato questo sicuramente l'Inter nelle ultime due settimane ha sì fatto le due partite di campionato ma si è allenata veramente poco perché hanno continuato a festeggiare comunque anche una squadra come l'Inter che non si allena che ha la testa da un'altra parte contro una squadra che è vero che ha dei numeri spaventosi in negativo che però all'acqua alla gola secondo me può uscire quella prestazione lì cioè voglio essere più chiaro secondo me non c'è stato secondo me io posso dirti che prima della partita che so dell'amicizia che c'è tra Marotta e Carnevale non c'è un'amicizia c'è una fratellanza quasi io mi sono fermato ho detto dice sicuro dice Sassuoli allora Massimo questa cosa dell'amicizia è gettare un discredito grosso però è gettare un discredito grosso sulla linearità e sulla correttezza Massimo ascolta arriviamo al punto un conto è essere amici ma secondo te perché allora allora l'equazione è questa per me non è così perché allora a sentire questo teorema loro sono amici ed è vero no? io credo che Giovanni Carnevale aveva iniziato a fare il dirigente forse al Pavia Calcio messo da Marotta ai tempi dico Pavia Calcio che ha iniziato a fare il calcio l'ha iniziato facendo organizzando il calcio mercato però fece qualcosa a Pavia eccetera organizzava il calcio mercato sì sì no ma prima aveva fatto anche qualcosa a Pavia allora io voglio dire però allora cosa sosteniamo? che i due si sono sentiti? che Giovanni Carnevale gli ha detto mi raccomando fai passare il messaggio alla squadra ragazzi il Dortmund è la prima finalista di Champions League ha battuto come l'andata 1-0 il Paris Saint Germain per l'ennesima volta il Paris Saint Germain fallisce l'appuntamento con la finale di Champions il Dortmund è la prima finalista e attende domani l'esito di Bayern Monaco Real Madrid si ripartirà dal 2-2 l'unica Champions vinta dal Dortmund è stata contro la Juve e io c'ero beh sì certo e io c'ero festeggiano giustamente i tifosi del Dortmund i giocatori sotto lo spicchio al Parco dei Principi la disperazione invece di quelli del PSG che ancora una volta vedono la loro stagione finire prematuramente la vittoria come sempre in Ligan vale veramente poco o nulla di fronte all'ennesima delusione che arriva dalla Champions e qui si aprono scenari importanti poi ve li ribadiamo quando parleremo di Juve perché questo risultato potrebbe incidere anche sulla panchina della Juventus di nuovo Francesco io dicevo allora in sintesi è ovvio lo sanno tutti che Marotta e Carnevali sono molto amici ok ma questo qualcuno sostiene che allora si sono sentiti prima e Carnevali abbia detto a Marotta mi raccomando di alla tua squadra di farci vincere la partita per me non è successa sta roba qua per me non è successa per me l'Inter ha giocato a marce ridotte beh no quello è ovvio ha giocato a marce ridotte puntini 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 basta la controprova ce l'abbiamo domenica quando il Sassuolo gioca contro con chi gioca il Sassuolo abbiamo detto la prossima partita col Cagliari col Cagliari no Genova ah tu dici perché dici ci rimettete per favore l'Inter c'è la grafica il Frosinone il Frosinone il Sassuolo vuole vedere il Sassuolo ah perché tu dici cioè allora voglio vedere se con chi gioca non me lo ricordo se la regia si ricorda sì sì se ci rimandano se ci rimandano la grafica ah bravi grazie col Monza no col Genova col Genova ecco dove a Genova sì ecco se il Sassuolo domenica gioca le prende di brutto come le hai prese con la Fiorentina a Genova allora abbiamo la controprova che qualcosa è successo poi bisognerà capire anche l'atteggiamento invece dell'Inter noi abbiamo la controprova perché cioè un conto è dire vabbè l'Inter non aveva niente da perderci e quindi può aver tirato su il piede dall'acceleratore e non ha giocato ma il Genova comunque anche non ha niente da perdere non ha niente da perdere perché ormai è in Serie A no è salvo è salvo è salvo a questo punto a maggior ragione abbiamo la controprova poi io ripeto ero qua domenica a vedere la partita e francamente non mi ero accorto di questo ma ripeto queste sono sensazioni che magari io da esterno non percepisco come le può percepire invece un giocatore che è stato nell'ambiente che quindi sa conosce le dinamiche e si accorge subito di cose che io non mi accordo no ma certe cose secondo me sono anche inconsce vanno da sole però io ripeto Massimo come hai fatto il calciatore se per 15 giorni non ti fossi mai allenato tu e i tuoi compagni di squadra ma avessi festeggiato della stagione non c'entra niente l'allenamento no ma non si sono allenati c'è chi non c'è non c'è si diceva una volta cioè io posso anche scusami io posso anche avere un infortunio oggi e saltare due settimane di allenamento riprendere devo giocare la domenica tra due settimane riprendere il venerdì fare una rifinitura il sabato ancora qualcosina la domenica io gioco ma non sei performante come sei stato prima dell'infortunio non è detto non è detto forse magari più un fatto di testa di deconcentrazione non è detto devi veramente spraccare per due settimane io non credo che poi siccome vai davanti a 60.000 persone a una televisione anche tu non hai voglia di fare brutte figure ma infatti non mi sembrava scusa che l'Inter col Toro che era la settimana successiva alla vittoria dello Scudetto abbia giocato una falsa partita erano davanti 80.000 persone c'era la festa primo tempo l'ha giocato malissimo e ti dico una cosa di più se non gli espellevano il giocatore se non gli espellevano il giocatore non finiva così non finiva così non vinceva se non annulli il gol di Lautaro per mezzo centimetro il primo tempo finisce per uno e poi non so la differenza che c'erano la differenza che c'erano due formazioni però diverse anche in campo perché comunque la prima parte anche con il Sassuolo comunque è stata giocata abbastanza pesante da parte del Sassuolo poi dopo è venuto fuori l'Inter e poi c'è il rammarico di non aver fatto entrare Turam però quello è un rammarico che appunto hanno posto così come domanda a Inzaghi in maniera abbastanza ironica infatti lui non è che ha dato una risposta convincente faccio un paradosso allora come mai in tempi non sospetti all'andata per dire l'andata ha vinto il Sassuolo ha merito l'Inter l'andata ha tirato due c'era Berardi e l'Inter sull'1-0 mi sembra si è mangiata il gol del 2-0 partita giocatissima qui dobbiamo metterci d'accordo che messaggio far passare io non voglio far passare nessun messaggio perché se faccio passare il messaggio escono fuori qui quelli dell'ufficio indagine ma io tutto quello che dico no perché io tutto quello che dico è supposto da me che ho vissuto delle cose 25 anni fa che poi quando spegniamo le telecamere ve le racconto e se te ne racconto già una te ne racconto già una e tu dici mazzo mi sa che hai ragione sì ma voglio dire ho capito ma accomodata o che va da sé a livello inconscio a livello inconscio dai eh boh non lo so Mariana questa cosa potrebbe avere una ripercussione in senso di segno opposto dell'inter a Frosinone cioè magari anche toccati nel orgoglio adesso dicono beh avete detto che noi abbiamo fatto feste vacanza a Sassuola adesso invece vi facciamo vedere che a Frosinone l'atteggiamento sarà diverso io presumo di sì ma è lo stesso discorso che avevamo affrontato lo scorso anno con Napoli quando Napoli è stato decretato campione d'Italia comunque ha avuto poi due pareggi uno con la Salernitana e l'altro con l'Udinese poi nel match quello con la Salernitana prima non era ancora campione d'Italia stava festeggiando forse la settimana dopo e il giocatore non mi ricordo chi fece un gol pazzesco pareggio a Napoli e per loro fu un successo a Salerno mi ricordo perché festeggiarono sì esatto a differenza a differenza del Milan che la Salernitana non fece vincere lo scudetto a Napoli nel derby sì quello è vero infatti c'erano stati però quei due pareggi poi però casualmente incontrava l'Inter e con l'Inter l'ha battuto 3-1 Napoli poi subito dopo invece ha iniziato comunque a perdere avevi perso forse con qualcuno comunque di bassa classifica è stata un po' il paradosso simile a quello dell'anno scorso del Napoli comunque forse con l'Empoli aveva con l'Empoli forse l'Empoli l'Empoli in casa sì perché poi aveva avuto il Monza ma il Monza forse l'Ampoli l'Empoli in casa quest'anno quando aveva anche l'Empoli non mi ricordo a memoria le ultime pareti del Napoli con l'Empoli che poi lo fecero fuori esatto aveva pareggiato col Bologna due a due ecco anche l'anno scorso il Napoli aveva mollato cioè voglio dire infatti è lo stesso il paradosso era lo stesso però io credo che col Frosinone penso che col Frosinone comunque non vada a fare una figuraccia come quella di Sassuolo io la ritengo un po' più fisiologica in questo caso non che non ci sono mai state anzi Massimo non come te da sul campo però io dico che certe cose che succedevano negli anni 80-90 che dicono no adesso invece succedono anche adesso sì sì no ma certo ma secondo me non in quella partita lì però perché era troppo grossolana la cosa allora ma infatti non l'hanno fatta grossolana 1-0 partita giocata eh però l'hanno annorato quando al 92esimo? no no 45esimo no 45esimo il primo tempo sì non l'hanno annorato all'86esimo allora eccoci qui a Lega Juventus ecco che cosa può succedere eh caro Marcello posso far vedere questa cosa? puoi far vedere quello che vuoi? posso? sì certo l'ho fatto apposta per voi così almeno allora allenatore Juve 24-25 eccolo qua si vede Claudio non so se vado a dire scusa sbagliato eccolo qua sì la firma effettivamente non è molto c'è la mia firma c'è la data c'è anche una postilla che ti pregherei di leggere con la firma postilla PS annuncio dopo esonero allegri esatto ok quindi questo lo posso conservare io prima sì certo meno che no devo tenere tu Paolo Marcello tutti tenete la custodita tenete dietro io mi gioco la faccia con quella roba lì ma almeno ci metto la faccia però pensavo che scrivessi PS Coppa Italia questo era rigore l'Italia d'Antonio no però lui deve incontrare ancora Giuntoli deve ancora incontrare Allegri tant'è vero che doveva incontrarlo chissà quanto tempo fa e non si sono ancora incontrati chissà perché quando si incontreranno Giuntoli comunicherà ad Allegri che non sarà più l'allenatore ufficialmente non sarà più l'allenatore della Juventus il giorno dopo il giorno dopo avremo l'annuncio di Tiago Motta però questo scenario che invece tracciavano Massimo e Paolo ipotesi hanno detto del Paris Saint Germain fuori dalla Champions ed è avvenuta questa cosa e questo temporeggiare di Tiago Motta perché comunque non vuole chiudersi del tutto la porta a Paris Saint Germain a me sembra verosimile cioè suffragata da persone diverse che avete sentito però effettivamente come quadro come ricostruzione ci sta ma Tiago Motta sapevamo che aveva e ha un appeal internazionale poi alcune strade si sono chiuse tipo a Liverpool ci va quello del Feyenoord poi Barcellona alla fine rimane però la cosa di Parigi vabbè adesso aspettiamo ovviamente di capire cosa succede con Luis Enrique però io non ho detto che è l'ipotesi più probabile cioè l'ipotesi assolutamente più probabile è che vada la Juve per carità cioè ci mancherebbe adesso cioè ma io mi sono proprio dichiarato ho visto visto no ma poi l'hai detto ieri ieri hai dato il 90% ieri sera io avevo dato l'ottanta legandola alle variabili però tu hai detto non è ancora certo no che lui accetti che lui allora che non abbia adesso questa alternativa e che possa accettare a voglio dire il progetto Juve no vabbè il progetto Juve lo conosce cioè gli ha parlato giunto la famosa nel sai anche te che si sono visti a Maranello il 10 di aprile l'hai raccontato ma secondo te cosa parlano delle specialità dello chef dice mi hai mangiato questa cosa qui io l'ho mangiata dall'altra parte sai ti voglio portare cioè no io avevo raccontato che avevo saputo però chiaramente l'interessato ovviamente me l'ha smentita e poi poi è uscita di nuovo da altre parti non vedi tu è uscita io l'ho raccontata che un mercoledì 10 aprile ci sarebbe stata una cena al Cavallino Cavallino il ristorante di Maranello della Ferrari Maranello esatto Maranello non un posto cioè e praticamente tragiunto Maranello e Tiago Morta in una sala privata che sono stati visti eccetera messa a disposizione dai proprietari di Maranello questo mi hanno detto ma i contatti sembrano legittimi e anche normali no certo ma pensa che posso raccontarla questa cosa un piccolo aneddoto quando stavo lavoravo per Luciano Moggi alla Juve lui mi chiese di portargli una sequela di allenatori a casa sua in via Carlo Alberto via Carlo Alberto 10 bravissimo e io gli ho portato giusto per non fare vino se volete chiamarlo se volete chiamarlo 3-3 no piano sopra c'era Andrea Agnelli sì ma lui abita ancora lì di notte a Torino sì e quindi adesso gli mandate la gente a casa di notte esatto hai ragione eh gli mandi la gente a casa di notte tu tiri fuori ma guarda che bello questo qua tu tiri fuori via Carlo Alberto ma mi hanno detto il numero 10 ma vabbè ripeti però lo ripeti eh bene hai detto tu vabbè basta adesso vanno sotto casa di Moggi no non dire sotto casa perché c'è anche un altro aneddoco qua su sotto casa sotto casa lo sai che era il direttore sportivo dell'Ecco che chiamò Moggi al telefono e disse pronto e Moggi è pronto sono sotto casa e citofona che ti faccio salire no è verissima verissima questa verissima il poverino sotto casa non c'è più però è una cosa che non è una leggenda beh portai tre allenatori e poi lui prese il quarto non prese nessuno dei tre venne fuori sui giornali e non si possono dire i tre oramai era una roba passata vabbè i tre allenatori che erano sulla bocca di tutti i tre italiani erano Guidolin Del Neri e Prandelli ma quando prese Ancelotti quando prese Capello perché poi andò a vedere poi ve la fate raccontare andò a vedere Porto Monaco e lì io ero ero in televisione c'era Micheletti ospite mi chiamò il cameriere del ristorante Urbani che loro Moggi e Giraudo si portavano sempre a dietro mi chiamò e mi disse a fine primo tempo di pure in televisione che hanno preso Capello e si erano visti con Deschamps il giorno prima lì alla finale e io gli disse ma io non posso dire questa cazzata perché questa è una cazzata e lui mi disse no te lo dico io adesso prendiamo l'aereo privato e fine primo tempo riprendiamo l'aereo privato andiamo a Roma perché ci ha messo in contatto con Capello Giorgio Tosatti è vero questo è quello di Tosatti che infatti la scrisse oggi durante durante l'intervallo di Monaco Porto e gli disse vieni vieni a Roma perché Capello viene alla Juve non rimane più a Roma lui prese l'aereo andò a Roma e fece firmare Capello e io dissi a Michele Tosatti e lui velatamente all'epoca non c'era Facebook non c'era Instagram non c'era niente era il 2004 era più bello fare mercato perché non avevi una dispersione una confusione cioè se colpivi nel segno colpivi poi le cose stavano sui giornali oppure in tv e quindi stavano non come adesso che sul web durano un click e poi vanno sotto nella pagina no in effetti scrivevi però è vero Tosatti fece da intermediare poi lo scrisse sul Corriere dello Sport la mattina dopo che lavorava all'epoca la domenica e poi qualcuno lo fece uscire poi a Calciopoli sta roba capisci usò quella cosa di Tosatti per infamare infamare Tosatti per questi quei suoi contatti queste sue cose detto questo insomma ci si domanda chi potrebbe succedere che cosa potrebbe succedere e chi potrebbe succedere anche ad Allegra la Juve perché diamo per scontato che Allegri Marcello tu non ascoltare tu hai già espresso il tuo desiderio il tuo parere non è un desiderio il tuo desiderio è Conte no no forse non hai capito quella è una notizia quella è una notizia non è un desiderio no mi sono espresso male io se avessi dovuto io se avessi dovuto scegliere l'allenatore della Juventus io prendevo Klopp per la Juventus gli costruivo la squadra solo ma beh se devo svestirmi dai panni di giornalista e faccio quello da tifoso vero ti dico io che allenatore vorresti tu la Juve Klopp anzi mesi fa perché me l'avevo già accennato mesi fa testimone Paolo Marcello come anche Federico Bertone qua sapevo che di questa cosa di Tiago Motta Tiago Motta questa è la tua notizia quindi escluso Marcello che dà per scontato che Allegri non resti Mariana siamo d'accordo che Allegri non resta la Juve o secondo te ma se Allegri vincesse la Coppa Italia per esempio allora quelli sono gli obiettivi societari appunto se vinci la Coppa Italia se ti posizioni in Champions ipoteticamente ci sarebbe un altro anno di contratto ma anche non ipoteticamente sì c'è un altro anno di contratto appunto come dice anche Comun Pioli ecco vabbè chiaro io forse per me ma come ho già ribadito più volte anche per quel che riguarda Pioli il ciclo di Allegri è benché finito alla Juventus su Tiago Motta non sono così ottimista ottimista che ci possa arrivare o convinta della scelta tutte e due cioè tu dici sono certa che Allegri non sarà più l'allenatore della Juve ma non sono certa che sia Tiago Motta il suo sostituto e che possa andare bene per la Juventus perché vabbè che possa andare bene dove nascono sul fatto che possa non essere allenatore giusto per la Juve dal fatto che comunque arrivi sì va bene tutti possiamo dire l'abbiamo detto tre giorni fa proprio perché ho detto la stessa identica cosa ah ma Tiago Motta comunque ha fatto un bel percorso eccetera eccetera sì è vero ha fatto un bel percorso di tutto quanto però stiamo parlando e lo dico nonostante sono tifosa del Toro però parlando della giornalista comunque parliamo della Juventus non stiamo parlando con tutto il rispetto comunque del Bologna e delle altre squadre che ha allenato se la Juventus ha progetti ambiziosi quali sembrerebbero quindi comunque riposizionarsi e andare avanti in Champions magari optare per vincere seriamente lo scudetto visto che comunque il duello ce l'è avuto quest'anno poi Manforte all'Inter perché ovviamente era più forte in tutto su tutti i fronti però sinceramente Tiago Motta io non ce lo vedo come l'allenatore per un conto se uno farà se faranno come dice Marcello e Tiago Motta l'allenatore perfetto il percorso sarà di un contratto quinquennale o triennale ma certo ma non è per vincere subito guarda che non è per vincere subito però aspetta perdonami il calciomercato va bene tu prendi Tiago Motta magari associ anche Zirze a un ipotetico arrivo di Tiago Motta andiamo nel fantacalcio eh no appunto però qualcuno dovrà anche mandare via per far cassa se vuoi costruire una squadra ad un allenatore che non ha quell'impronta sulla rosa attuale prima ci sono altre cessioni come su lei eccetera e poi eventualmente servono delle offerte per i big però guarda che la Juve ha giunto e le hanno fatto 5 anni di contratto per un progetto lungo se no non glielo facciamo così lungo la Juve deve tornare a fare utili nella stagione 2026-2027 cioè la priorità è sistemare i conti non è vincere a prescindere subito che poi non è detto che se al posto di Tiago Motta metti un altro questo vinca non è matematico da nessuna parte però io in queste riflessioni su Tiago Motta vedo un po' di conservatorismo in generale non tu adesso perché ne hai parlato perché noi siamo sempre legati al nome a quello che ha vinto in passato cioè io ti faccio un paradosso ti ricordo che che Ciavi Arunzo l'allenatore del Barneverkusen non aveva mai allenato una prima squadra aveva allenato solo nei settori giovanili di Real Sociedad e di Real Madrid parliamone ma sì ma abbiamo parlato anche l'altra sera abbiamo fatto l'esempio con Lippi e qualcun altro che è andato alla Juventus ma parliamo di un calcio diverso di 20 anni fa e campionati completamente diversi era un calcio diverso a punto il calcio diverso i tempi sono diversi i campionati sono diversi ma questo è il mio parere ci sono allenatori giovani pronti che studiano e il calcio si evolve magari ci sono degli allenatori super vincenti come Murini e Allegri che non sono più competitivi capisci? quindi non facciamoci secondo me condizionare no ma poi tra l'altro scusami Paolo cioè non è che la Juventus vada a caso su Tiago Motta proprio perché per far combaciare le politiche economiche alle quali bisogna deve attenersi la Juventus d'ora in avanti vale a dire un'economia molto più sostenibile rispetto a quella praticata fino ad oggi hai bisogno di un allenatore che ti valorizzi al massimo i giocatori che prende che sceglie e allora hanno scelto giuntoli proprio perché uno che è andato sempre a pescare dei giovani talenti bravi sia al Carpi sia al Napoli e li ha valorizzati cosa che Allegri non sta facendo perché tutti mi stanno ancora facendo ancora ieri sera al processo c'era chi continuava a dirmi e però lui ha valorizzato i giovani io non ho visto un giovane valorizzato i giovani non è vero per me non l'ha valorizzato anche un giovane per me non l'ha valorizzato non è vero ha il Diz ha il Diz gli ha tarpato le aria ma no non è solo il Diz ragazzi Cambiasso Cambiasso è arrivato ma non è un giovane non è un giovane ma non ha mai messo il naso in nazionale non aveva mai giocato in una squadra importante scusami e giocava e non giocava scusa McKennie adesso te lo scrivo ma non è un giovane McKennie no io sto dicendo valorizzato dei giocatori che non valevano niente oggi McKennie vale qualcosa McKennie l'hanno tirato al Torino alla Fiorentia non voleva nessuno gli pagavano pure l'ingaggio cioè ci sono dei ragazzi Miretti scusate Miretti l'ha tirato fuori lui ma domani ha un valore anche Miretti io non ti sto dicendo che Miretti deve andare a Real Madrid Miretti se il Bologna lo vuole deve tirare fuori 10-12 milioni sì va bene anche il in giugno allora certo anche il in giugno allora anche mi stai dicendo tu ma tu capito io li valuto poi sul campo quello che fanno ma cosa vuol dire li valuti sul campo non è detto che un giocatore valorizzato debba per forza essere un giocatore che poi va a Real Madrid no io non sto dicendo che deve andare a Real Madrid anche quello che arriva dalla Next Gen per cui non sono stati spesi grandi soldi e che magari lo rivendi a 12-13-15 milioni a un Bologna a un Genoa o lo usi come pedina di scambio per arrivare non lo so a Gudmusson a un giocatore pappabile Ausen chi l'ha valorizzato Ausen chi l'ha valorizzato Ausen è venuto fuori dal settore giovanile dall'Enice Gen e l'ha fatto userdire lui no beh ma dove si sta valorizzando ma ragazzi ma valorizzare scusate però valorizzare ragazzi valorizzare significa che io lo prendo e lo metto in prima squadra ad allenarsi non guardate solo la domenica ragazzi la valorizzazione di un giocatore scusami Gigi Radice con me con me mi vedeva agli allievi e aveva l'occhio mi vedeva in primavera a un certo punto c'erano tutti gli altri del settore giovanile che spingevano altri giocatori Gigi Radice dice no io voglio Brambati in prima squadra e ho cominciato a allenarmi fisso con la prima squadra e non ero manco titolare nella primavera perché vedeva me senti scusa ma l'ha valorizzato lui però scusami Massimo quello che però salta all'occhio è che lui ok sulla media qualche giocatore Bremer scusami Bremer è miglioratissimo perché tutti ridono eh la difesa si difende ma Bremer è diventato molto più bravo adesso a difendere di quando giocava al Toro molto più bravo ma guarda molto bravo anche lì sì ma le letture le letture quando si alza la sticella di una gara perché il Toro a Roma magari perdeva 2-0 però nessuno diceva perché il Toro può perdere 2-0 oggi ti faccio le letture difensive di Bremer sono diverse dalle letture difensive che avevano il Toro e ha segnato 8 gol di testa e ha segnato 8 gol quelli anche al Toro però ma lui riferimento quando si parlava di aver valorizzato i giovani non Bremer ma i giovani ma i giovani ci sono e Hildiz non è stato valorizzato non ha più fatto giocare l'ha ammazzato ragazzi l'avrà ammazzato al signor Giuntoli fatelo dire che gli è arrivata un'offerta di 25 milioni che ha portato un mio amico ma è ovvio cosa vuol dire che è ovvio ma no sto dicendo è un giocatore che finché non esordiva con la Juventus ma scusa ma poteva anche dire ma io perché devo mettere Hildiz io c'ho Milik Ken Vlaovic e Chiesa e io Hildiz lo lascio a Mekke scusa quando è arrivata l'offerta da 25 voglio solo sapere è arrivata quando c'è stato il mercato di gennaio ma perché tu era a Riad quando c'è stato a Riad una riunione di mercato scusa ma un giocatore scusami aveva giocato qualche partita aveva giocato no qualche partita perché quante ne hai giocate fino adesso eh dite che non ne hai più giocate è bastata qualche partita giocata per far sì che arrivasse un'offerta come fa un allenatore a non vedere un giocatore di Tarento come Hildiz ma è ovvio che gli ha fatto fare qualche partita ci mancherebbe ma perché scusa ma perché ci mancherebbe ma non è vero ma voi date per scontato c'è Ken Vlaovic Chiesa e Milik perché devo portare Hildiz se ci vedo qualcosa di importante me lo porto scusa ma perché uno deve dire cosa ci vuole anche perché scusami poi Hildiz non mi sembra che poi abbia fatto delle grandi non è vero non è vero perché scusa anche quando giochi mezz'ora devi far vedere e devi mangiare l'erba sì ma in una squadra che fa calcio però in una squadra che sta 70 metri ma su questo sono d'accordo che lui non ha mostrato Chiesa domenica ha fatto vedere che cosa è capace di fare non c'era lo stesso allenatore delle altre partite in panchina sì e allora ma Platini giocava con Trapattoni andava a prendersi perché lo marcavo io andava a prendersi la palla ad Attacconi andava ad Attacconi a prendersi la palla perché sapeva che gli mangiava Platini andava in fondo là e poi faceva un lancio di 50 metri avete nominato